Salve, buonasera. Lei ha l'appuntamento per la visita oculistica, vero? Perfetto. Mi può solo dire il nome così controlliamo? Eccola qui. Sì, ha la visita proprio con me. Allora, vedo dalla sua cartella che lei è già stato nostro paziente, giusto? Perfetto. Le chiederei solo di darmi conferma dei dati così che vediamo se la cartella con le sue informazioni è corretta. Allora, il nome? Beh, l'abbiamo visto. La sua età? Sì. L'indirizzo? Sì, viene usato solo per eventuali comunicazioni. Ok. Il numero di telefono? Corretto, ok. Ah, l'email anche? No, io qui ne ho un'altra. Ah, l'ha cambiata nel mentre. Non c'è problema se me la puoi solo ridire. Chiocciola.it Perfetto. Così abbiamo i dati aggiornati. Allora, qui la mia assistente mi ha segnato visita oculistica, ma non so se è una visita di controllo o se hai avuto qualche problema. Ok, una semplice visita di controllo. Allora, ti chiederei di togliere un attimo gli occhiali, dalle pure a me. Ok, perfetto. Li mettiamo qui. Ti ricordi le lenti? Che gradazione hanno? È il sinistro? Ok, sì, tanto dopo controlliamo che effettivamente abbiano questa gradazione, così da vedere se ci sono state dei peggioramenti sulla vista. Allora, stai pure seduto lì. Ti chiederei di leggere alcune di queste lettere, così da vedere come sta la tua vista. Perfetto. Nel caso in cui dovessi vederle annebbiate, alcune sono molto piccole, non ti preoccupare, non sentire pressioni, insomma. È normale che sia così. Allora, cominciamo da questa qui. Non dovresti avere problemi. Esattamente. Una è questa qui. Perfetto. Questa. Ottimo. Questa qui. Hai qualche dubbio? Sì, è una E. No, no, è normale, tranquillo. Poi con la vicinanza, con la Z sopra, può creare qualche dubbio effettivamente. Questa. Perfetto. Questa qui. Andiamo più sul difficile qui. Potresti iniziare ad avere delle difficoltà in base alla gradazione che mi hai detto che hanno le tue lenti. Allora. Questa lettera qui. Ok. Questa. Questa. Questa qui. Sì, è una E. E lei, vedo che ti danno qualche problemino. Andiamo ancora più sul piccolo. Questa qui. Perfetto. Questa. È confusa. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Queste due ultime linee, in effetti, in base alla gradazione che mi hai detto di avere, potrebbero crearti molte difficoltà. Quindi, giusto per sfizio, questa qui. No, no. È una B. Molto simile alla F che troviamo qui. Ma è una B. Ok. Allora. Perfetto. Ti direi che non hai avuto un peggioramento perché fino a qui siamo nella norma. Perfetto. Poi, ho fatto questo breve e rapido test, giusto per avere un confronto con i dati precedenti. Ti vorrei fare solo un test con la luce. Per vedere la reazione visiva agli stimoli. Ok. Allora, come prima cosa, molto semplicemente, ti chiedo di fissare il mio naso e di dirmi quando vedi che la luce va fuori dal tuo campo visivo. Ok? Cominciamo. Mi raccomando, punta sempre il mio naso. Ok. Molto bene. Ok. Ottimo. Bene. Ora, chiudi cortesemente l'occhio destro. Così facciamo lo stesso test sull'occhio sinistro. Ok. In questo caso ti chiedo di guardare. Ok. Allora. Bene. Ok. Riesci a dirmi se la luce si sta avvicinando o indietreggiando. Dimmi quando vedi uno o quando vedi l'altro. Ottimo. Ora, chiudi l'occhio sinistro. Così facciamo la stessa cosa, ma sull'occhio destro. Ok. Allora, guarda sempre il mio naso. Ok. Bene. Ok. Ok. Perfetto. Allora, ora tira pure... C'è la mano dall'occhio. Perfetto. Devi seguire la luce. Ok. Allora. Ok. molto bene Continua a seguirla, mi raccomando Molto bene Ok Ora sempre con la luce farò alcune forme Dovresti vedere se riesci a riconoscerle Se hai difficoltà Sono forme molto semplici Cerchio, perfetto Quadrato Ottimo Si, rettangolo Quadrato in questo caso Sarebbe andata bene comunque Di nuovo cerchio, perfetto Un triangolo rovesciato Ottimo Rombo E' un trapezio Perfetto No guarda direi che combacia tutto con i dati che avevamo già segnato nella cartella Durante l'ultima visita Quindi E' quest'altro test fatto Per regolare Ok Ehm Guarda l'ultima cosa che vorrei fare E' un controllo più Più ravvicinato agli occhi Sì Ehm Mettendo però prima Del Del collirio Perché Si mi da l'idea che Tu possa avere l'occhio un pochino Disidratato E Voglio vedere Se Andando a enumerirlo un pochino con Con questo collirio Se Ehm Cambia qualcosina Ok 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 Allora Apri bene l'occhio Ok E stessa cosa Di qua Ok Allora vediamo Ora Con La luce Nel mentre Sì 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 Se mi controlli la La gradazione degli occhiali Tieni Grazie Mi avvicino un velo Guarda la luce Continuo a seguirla Ok Vediamo di qua Allora Sì Direi che C'è una mobilità oculare Maggiore Ok Sì Quindi sicuramente Ti prescriverei Un collirio Adatto Da Usare almeno due volte al giorno Indicativamente a metà giornata E Verso fine pomeriggio Un loro collirio Due volte Di E Sera Ok Te lo lascio Sì 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 Lo trovi tranquillamente in farmacia Allora vediamo nel frattempo Gli occhiali Ok Sì È la gradazione che Perfetto sì Ottima memoria Complimenti Allora Ne approfitto Facciamo Una pulizia Abbiamo queste Pratiche salviette Poi te ne Te ne lascio qualcuna Così che Tu possa pulire gli occhiali In genere si puliscono Sempre con I lembi della maglia Ma purtroppo Così finiscono Molto spesso Regati Sì E non è mai positivo Meglio usare O la salviettina Che ti Ti danno assieme Agli occhiali O delle salviettine Amposte Tipo queste Hanno un buonissimo Profumo peraltro Senti Molto buono vero? Già Allora li puliamo per bene Così Sicuramente Vedrai qualcosina in più Ok E vedo che hanno qualche riga in effetti eh Anche tu mi sa che vai parte del team Di quelli che li puliscono Con le maglie E lo so non sempre sia Il prodotto adatto A disposizione ma Con gli occhiali Con quello che costano Bisognerebbe sempre Portarsi dietro Il giusto necessario Per non rovinare le lenti Perfetto Nuovi di pacca Ecco a te Tieni li Mettili pure Ok Allora Le lenti abbiamo detto che la gradazione è quella che mi hai dato Quindi la confermiamo Così aggiorniamo Al computer Più tardi i dati Perfetto Perfetto Direi che questa visita oculistica è finita Non hai nulla di cui preoccuparti È tutto Stabile Perfetto Eventualmente possiamo fissare un'altra Fra un sei mesi Un anno Se proprio Vedi dei Delle differenze Altrimenti non c'è Non c'è urgenza Perfetto Alla prossima allora Buona serata Perfetto